Saluti, sono Petro Perra, uno dei spagos operatori professionisti della lingua sarda in Sardegna. Sono altri colleghi che sono formati nelle università di Castello e Nocetti. Ho fatto il master, ho fatto il cursus e ora ho usato il sublinguismo con cursus, traduzioni e pubblicazioni in Donia Batti della Sardegna. In noi abbiamo pubblicato la storia delle comunità che non ci credo ancora sul fatto che questa cultura possa essere un motore per andare in Sardegna. In tutto il mondo, questa cultura, la lingua sarda in minoria e le specializzazioni del suo luogo hanno avuto un'apprenda, uno scruzzaggio. E' durante che ho lavorato a Gentimeda. In Sardegna non siamo di Aici. In Sardegna, quando ho cominciato a lavorare, ho lavorato bene. A Goa, non c'è posta di me su questa politica e ho concordato il suo luogo. Quando c'è, a i suoi ministri che hanno fatto lavorato nella comunità, ho lavorato col spese sui valori dei professionisti. posto a tutti i paesi, associati a chi ha scelto i vostri biciocchi di sardo manco 200, dunque adesso tutto il bilinguismo è cominciato ad andare male in meda. Traduzioni si vanno sempre in mezzo, i corsi di sardo vanno in italiano, e come ti devo andare a fare un corso di inglese in italiano, cosa a fare sul mondo. Studi sempre per il spago, sempre per l'offizio della lingua sarda, e noi siamo a un punto che tutti i studi che ho costruito fino a noi devo volerlo, che non ho avuto una continuità del lavoro. e te che io ho toccato a fare, semplicemente toccata a donare i valori ai professionisti, non ai ciappuzzi su, che in sardinia funziona da Aici, su ciappuzzi andate in antesi, che tenete un amico in questa politica. Su professionista, ma anche essi su mezzo, tocca a due anni e donnavati, che su professionista fa i birri, che su ciappuzzi non parli da nuda, e che a solo, su professionista, potete andare in antesi, è buono lo fai, ma questo su politico, che vuole papà, che vuole donare a papà ai amici cedosi, ma tu vuole. Su professionista, l'eccellenza non andrà bene in sardinia, è una cosa che vuole dare una parte, è dubbio, perché noi teniamo su su atto che si lasciano perdere, che i bambini sono fatti su male, teniamo su i bambini nostri che sono fatti a ruendo, che i bambini sono fatti su male, e su di noi di un prompittente e ancora di donanti, e andrà bene. Uno può dire, ma questa politica tenete su doveri di fare leisi, poi permette a subrivare un'azienda, una legge che permette a su massaglio di fare sugli oliti in su atto, commenti oliti, fatto bene, una legge che permette di arrangare un addombo, carichisi la cosa, uno può fare e questo no. Dunca, devo una cosa, devo essere uno dei picciocchi su, non proprio picciocchi, ho 40 anni su, che ancora non ci grinti a barrare in sardinia. Devo altri picciocchi su volevo su battaglia per barrare in sardinia, perché a noi non potevo lasciare questa sardinia a un'azurra di gente che non sardinia a barrare in sardinia, perché a noi non potevo vendere i danni in questa terra nostra. Devo una cosa, il mio lavoro con questa lingua sarda è un lavoro politico vero, perché a Devo quando aveva un picciocchi da donare i valori a questa lingua in loro, devo dare un'input, da donare i valori a questa persona in loro. Perché chi non ha stima di sei questo picciocchi e questa picciocchi, a manno, non ha mai potuto essere un picciocchi e un picciocchi alientosi, che se ci sono ti gattati, il traballo su, il bonus, non ha mai potuto essere indipendenti. Adesso sempre colonizzati in Sagonca, adesso sempre c'era accuso, scrauso, che in cui uno dannaggio, politico dannaggio, che da dannaggio, andrà bene. Vota a me e io ti faccio traballare tre mesi, e ora ti faccio traballare chi va a Sabono, sempre chi va a Sabono, altri tre mesi. che in Sardegna può traballare in noi, tocca da fare il bonus, e stannai, tocca da l'incivago-vago ai gusti, tocca da fare i progetti e alcun altro. Da un buon gusto, da una buona Sardegna è indipendente, degonca, culturali e politica, anche a questa gente sia da di aderre su, alientosa, e poi sannai, a questa gente, no. Devo tengo su traballo mio, devo a tu e non ti dè più nuda, devo a tu e da per votare, scelti chi ha essi uno politico buono. E' spazio da questa questione. Se ho sentito qualcosa volemico, ma è arrivato su tempo su di essi volemico. Grazie a Saberi. Grazie.